Un sostegno agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, garantito dalla Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR. L'obiettivo, oltre che ad assicurare un supporto economico per i giovani, è quello di costruire un futuro migliore, investendo in sapere e cultura. Per l'anno scolastico 2017-2018 è stato pertanto emanato un bando per un totale di 12.830 borse di studio, per gli studenti delle scuole medie e superiori, ognuna dal valore di 400 euro, con la quale sarà possibile acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi. Per partecipare al bando occorre essere in possesso dell'attestazione ISE 2018, non superiore a 15.748,48 euro. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il modulo online, dopo essersi registrati al sito www.iostudio.regione.campania.it entro le ore 13 del 12 marzo 2018. La borsa di studio verrà erogata attraverso voucher virtuali associati alla carta dello studente di ogni singolo beneficiario.